Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per lavori tre chilometri di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Nord, code per traffico intenso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, in direzione Roma rallentamenti per lavori tra Barberino e Calenzano. In A11 code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Pistoia e il Bivio Berla 1 in direzione Firenze. Sulla FIPILI tra Montelupo ed Empoli Est chiusa la corsia di sorpasso in entrambe le direzioni con chiusura dello svincolo di Empoli Est in ingresso in direzione Firenze. Per questo motivo tre chilometri di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e un chilometro di coda tra Ginestra ed Empoli Est in direzione mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!